Assolutamente sì, in premessa voglio dire che per me non mi era mai capitato di ritirare un premio per conto del mio Presidente, devo dire che è un fatto eccezionale, è un'emozione in sé e voglio dire anche che trovare le motivazioni per le tante qualità veramente è difficile perché sono tante le qualità del Presidente, non è che faccio qui una sviolinata, lo conosco da trent'anni, ci lavoro da trent'anni, lo conosco da più anni e ovviamente posso dire che è veramente al di sopra di parecchio rispetto alla media degli altri politici. Detto questo ovviamente voglio anche sottolineare che ci teneva tantissimo ad essere qui questa sera e veramente impegni sovraggiunti, sovravenuti straordinari gli hanno impedito di esserci ma ci teneva a far trasmettere un messaggio che sarà qui nel prossimo periodo.